Amici di Trento Why People e Why Trentino, oggi abbiamo fatto una piccola sosta a Tione di Trento. Tione è una ridente cittadina che si trova nelle Valle Giudicarie, la più importante diciamo delle Valle Giudicarie, in una posizione strategica perché è da crocevia tra la Valle del Chiese, la Valle delle Giudicarie e la Val Rendena. Da qui infatti è possibile fare un punto di partenza per delle escursioni all'interno del Parco d'Amelobrenta, ad esempio, e altre valli qua vicino, molto belle. Due fatti hanno contraddistinto la storia di questa cittadina. Il primo è che nel Medioevo fu una delle sette pievi che godeva di autonomia amministrativa dal Principe Vescovo di Trento. Il secondo è che alla fine dell'Ottocento purtroppo un incendio, un brutto incendio, la distrusse completamente. Un incendio che durò più di una settimana. Come la Fenice, anche Tione è rinata dalle sue ceneri. Ancora oggi possiamo ammirare tanti bellissimi palazzi, camminando, passeggiando lungo il centro, che risalgono proprio alla fine dell'Ottocento con delle bellissime decorazioni sulla facciata. Seguiteci sui nostri canali per vedere le bellezze del Trentino. Bye!